The best wedding of the year! Yeah, really, we like it! Welcome to Italy! Welcome to Italy! Si tratta di un tempio, guardate che bella struttura all'interno di questa villa a bocca bianca e adesso andiamo a trasformarla in una discoteca. Adesso mandiamo Mr. Ricky a giocare sulle giostre, va bene? Dove sei Mr. Ricky? È già andato, è già andato! Giordi, professional wedding DJ! Oggi matrimonio internazionale a Cupra Marittima, in una villa bellissima sul mare. Lungo viaggio, 500 km, vi aggiorneremo nel nostro daily vlog. Vedremo delle cose, ragazzi! Ce la faranno i nostri eroi ad arrivare a Sani e Salvi a Cupra Marittima, primo pit stop della giornata, ci voleva proprio, all'autogrill dopo Imola, pronti per ricaricarci per il grande wedding. Siamo arrivati a destinazione, abbiamo scaricato tutto il materiale, audio e luci, a Villa Bocca Bianca e ora siamo a fare un bel girettino insieme a Mr. Ricky sul lungomare, anche se piove. Beh ragazzi, un po' di relax prima del matrimonio di domani, direi che è dovuto, no? Ok, domattina presto, siamo già in pista. A Porto San Giorgio c'è il Luna Park più grande d'Europa, cioè è gigantesco, bellissimo. Adesso mandiamo Mr. Ricky a giocare sulle giostre, va bene? Dove sei Mr. Ricky? È già andato, è già andato. Bene ragazzi, siamo in fase di montaggio in questa zona dedicata al ballo. Si tratta di un tempio, guardate che bella struttura all'interno di questa villa Bocca Bianca e adesso andiamo a trasformarla in una discoteca. Si va! Prove tecniche di DJ Seth con lo sposo perché anche un DJ farà un set all'interno della festa. Perfetto, stiamo facendo le prove per la cerimonia, tutto funziona bene. Aspettiamo solo gli sposi, gli invitati, devo dire che abbiamo fatto per ora un ottimo lavoro. E questa è la visuale che abbiamo da Villa Bocca Bianca, guardate qua che bello. Eccosi qua. Mentre Daniela Ricci e le sue staff incombono. Ecco qua, guardate che bella composizione floreale. Ciao! Tutto pronto o quasi per la cerimonia, c'è anche un fantastico quartetto d'arti quest'oggi, quindi special guest. Ecco, mentre Mr. Ricci invece ha la regia, gestione microfoni, ecce, ecce, ecce. My name is Lorella. Possiamo tranquillamente dire che sia stata scritta dal destino. Mr. and Mrs. Silingo! E alle mie spalle l'aperitivo, sempre con il quartetto d'archi, molto suggestivo, devo dire, grande gusto musicale. Grazie. 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 Gli invitati stanno per accomodarsi per la cena, arriveranno anche gli sposi e quindi entriamo nella seconda fase di questa grande festa di matrimonio. Annalisa e Jason, con la pizza, big applause please, everybody! Eccoci qua, la sera è arrivata, si possono cominciare a vedere le bellissime luci installate per questo fantastico evento. Nel frattempo sottofondo, background music in attesa poi del taglio della torta, dei balli, una lunga notte. Bene ragazzi, abbiamo appena allestito tutte le luci all'interno del tempio per far ballare gli ospiti e gli sposi in un'atmosfera veramente magica. Aspetta, se c'hai San Racino, vai che c'hai San Racino, oppure tu puoi fare l'America, America, ma si nati in Italia, whisky and soda and rock and roll, whisky and soda and rock and roll, let's make a big round of closes for Andrea. They're the next, man. Who's at home, who's at home, who's at home, who's at home. the F1. B.J. Jenson. F1. F1. Intoxicative One more round! The best DJ in Italy! Jason! The best DJ in Italy! Jason and Alisa, the best wedding of the year! Yeah! We like so much! We like the party! We like the party in Italy! We party hard! Party in Italiano and Americano style! Great food, great bartender! She's a great DJ! Thank you so much! What about the uplighting? Do you like it? The lighting is perfect! Perfect! Thank you Mr. Ricky! Thank you! Thank you Mr. Ricky! Yeah! This time we set up a very special uplighting into a temple that is amazing! The temple of love! We started with some funky music, 80's and then disco house, disco house forever! American style! American style! Very elegant, very cool and as you see in the video, very catchy and elegant! We went really great, great party! By the way! Everyone was dancing! And now started in America, in Chicago! By the way! Yeah! And Jason is a DJ too! And I'm also from Chicago! That's why the house is a special guest! Special guest! Special guest! Special guest from America! Thank you so much guys! We appreciate so much! It really succeeded! Everyone was dancing! Yeah! All people! Bye everyone! Ciao! Thank you! Fun enough!